Nel primo appuntamento ti ho parlato del tempo e di come questo possa essere sfruttato al meglio per ottimizzare i processi all'interno della tua farmacia. In questo secondo video vorrei affrontare un altro argomento che spesso viene trascurato e per il quale invece andrebbe posta una particolare attenzione. Mi riferisco al costo nascosto del farmaco. Credo che sarai d'accordo con me nell'affermare che gestire il farmaco in tutte le sue fasi ha un costo, tuttavia non è sempre così facile farlo emergere. Seguimi attentamente e insieme scopriremo come risolvere quest'enigma. Ma prima ci tengo a puntualizzare quanto è importante per te che sei un farmacista essere percepito dai tuoi clienti come il professionista esperto del farmaco e in generale di tutti quei prodotti legati sia alla salute che al benessere. Inoltre è strategico che tu e i tuoi collaboratori veniate apprezzati in quanto percepiti come coloro che tutelano la salute delle persone anche attraverso l'attività di informazione in quanto giustamente uno dei vostri compiti è anche quello di sensibilizzare le persone ad un uso appropriato di tutto ciò che acquistano. Partiamo col mettere in relazione la rotazione di magazzino annua del farmaco etico con i costi che questa realmente genera in termini di risorse umane. Questo raffronto ci sarà utile per poter determinare con precisione il valore del farmaco. E non sto parlando solo di un valore in termini di remunerazione ma bensì di un valore molto più articolato. Ma andiamo con ordine. Dalle analisi fatte da diversi consulenti e commercialisti specializzati nel settore delle farmacie risulta ormai assodato che l'obiettivo medio nazionale delle farmacie è quello di far occupare al farmaco rimborsabile circa un 30% del fatturato totale. Tuttavia i dati di movimentazione ci restituiscono delle informazioni abbastanza allarmanti sulla sua distribuzione percentuale che oggi mediamente si gira intorno al 50-60% del fatturato. Inoltre sappiamo che mediamente il magazzino del farmaco ruota circa dalle 16-18 volte nel corso di un anno e sappiamo anche che la marginalità che se ne ricava ha subito una forte riduzione e ancora che la gestione necessaria a generare questa rotazione arriva ad assorbire oltre il 60% di tutte le attività che vengono quotidianamente svolte in farmacie. Per contro il resto dei prodotti soprattutto quelli che sono collocati nelle aree a libero servizio non solo hanno un indice di rotazione molto più basso e quindi un costo di gestione diciamo inferiore ma contestualmente presentano una marginalità media molto più alta. Continuando ad esaminare solo il farmaco vediamo che negli ultimi 20 anni il numero di prodotti che mediamente vengono gestiti all'interno di una farmacia è salito ad una media di circa 5.000 referenze mentre prima erano circa 900. Oltretutto in alcune regioni la marginalità media per ricetta tende ad essere perfino inferiore agli 11 euro lordi. Ricapitolando oggi le referenze aumentano in maniera esponenziale il farmaco ruota tanto 16-18 volte il farmaco ha scarsa marginalità e richiede gran parte del tempo per essere gestito l'extrafarmaco invece ha una rotazione bassa e conseguentemente richiede meno tempo ma coprerò con una marginalità che è decisamente superiore. Ma tutto questo perché? Come ricorderai nel 2009 abbiamo assistito dapprima al proliferare dei farmaci generici e poi nel 2012 alla riforma sulla remunerazione del farmaco. Oltretutto le farmacie sono state private anche della distribuzione di alcune importanti molecole per le quali non è stata permessa la sua dispensazione in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Ora se avverti una sensazione di fastidio allo stomaco vuol dire che ti riconosci in quello che ti sto raccontando. Scenario critico non trovi? Questo scenario però stimola la farmacia a dover necessariamente adottare delle nuove strategie. È ormai fin troppo evidente che le farmacie corrono ai ripari specializzandosi sempre di più su categorie merceologiche differenti e soprattutto anche adeguandosi e conformandosi nell'erogazione di un numero sempre più crescente di servizi. Questa trasformazione ha prodotto un forte impatto sulla logistica della farmacia ed anche sul controllo e sulla dispensazione del farmaco. Giusto per farti metabolizzare meglio di cosa ti sto parlando posso testimoniare con un minimo margine di errore che in questi ultimi 12 anni più di un terzo del magazzino della tua farmacia è popolato da referenze che hanno la giacenza uguale a 1. Questo fattore provoca inevitabili ritardi nella ricerca del prodotto ma soprattutto anche nel controllo di ciò che si trova veramente in farmacia. Anche la dematerializzazione totale della ricetta ha provocato un forte cambiamento nel modo di dispensare i prodotti. Mentre prima si utilizzavano i promemoria per l'individuazione del prodotto nella cassettiera ora in molte regioni bisogna memorizzare l'elenco dei prodotti prescritti ad un determinato paziente e poi per evitare di aumentare il numero di chilometri percorsi all'interno della farmacia talvolta si ricorre ad una stampa di cortesia che contiene tutto l'elenco dei prodotti da andare a prendere. Riprendiamo per un attimo il concetto della brocca d'acqua Lo ricordi? La brocca d'acqua è la tua farmacia che ogni giorno viene riempita costantemente bicchiere dopo bicchiere da tutte le attività che devi necessariamente svolgere. Quello di cui abbiamo appena parlato rappresenta appieno questo esempio. La brocca si riempie sempre di più fino ad essere colma. Ecco, questo non è più concepibile. Ma non spaventarti perché quello che si sta verificando è un processo industriale conosciuto e che nel tempo ha visto tantissime applicazioni maggiormente visibili nel corso dello sviluppo economico e che hanno anche generato grossi cambiamenti sia ai settori produttivi ma anche a quelli commerciali come il tuo. Quando il divario tra costi e fatturato aumenta al punto tale da mettere a rischio i ricavi allora è qui che entrano in gioco i cosiddetti beni strumentali ossia demandare gran parte delle attività che prima venivano svolte dall'uomo ad un robot collaborativo. Forse ora ti sarà più semplice capire il significato e immaginarti quanti attimi potresti recuperare dotando la tua farmacia di un magazzino robotizzato. Quanti bicchieri d'acqua in meno saresti costretto a versare nella brocca. Quindi per rispondere al nostro enigma il costo nascosto del farmaco è il magazzino. La sua gestione e tutti gli attimi che ogni giorno vengono ad esso destinati infruttuosamente. Questa analisi ha il solo scopo di accendere in te un allarme e darti conseguentemente l'incentivo ad approfondire un tema così strategico. Inizia a tenere traccia delle attività correlate alla lavorazione e alla logistica del farmaco degli attimi necessari per il carico per il controllo e per la dispensazione. Vedrai che inizierai spontaneamente a comprendere quanto sia vero che la logistica di magazzino è il reale costo nascosto del farmaco. Ti aspetto al nostro prossimo appuntamento nel quale ti parlerò dello spazio. un altro importante valore strettamente legato allo sviluppo strategico della farmacia.